Sai chi ti saluta tanto? Sai chi ti saluta tantissimo? Allora, vediamo da chi partire. Partiamo da Federica, Federica da Milano. Federica? Dov'è? Sono una professionista, però. Ah, è qua in fondo. Dov'è Federica da Milano? Vieni, vieni, vieni. Là in fondo? Eccola là, Mike. Devi fare un po' di strada. Eccomi, eccomi. Fede, benvenuta. Benvenuta. Grazie. Chi chiamiamo? La tua amica Tiziana. Esatto, la nostra collega. Perché non è venuta qui? Perché non l'abbiamo invitata. Che amica. Quindi amica forse è un parolone grosso. Hai fatto bene a sottolineare collega. Ci dice Federica che Tiziana è una professionista, è una maestra dello stoccazzismo. Esatto. Ve lo fa tutti i giorni? No, tutti i giorni no, però in ufficio capita. Vediamo. Vediamo, esatto. Se cascherà nel suo stesso tranello. Nel caso, visto che poi in palio c'è sempre una canzone dedicata da voi che le possiamo fare ascoltare direttamente da Rai 2, che canzone le dedichiamo? Mi fai volare di Fabio Rovazzi. Mi fai volare di Fabio Rovazzi. Beh, è bella, cassa in quattro, dritta, mi piace. Vediamo se lei ci fa volare. Cioè, mi fai volare. Cioè, io morta. Cioè, letteralmente troppo noi. Tiziana, troppo noi? Sarà già pronta. No, io volo. Anch'io. Altissimo. Pronto? Tiziana? Sì? Sì, ciao, sono Alessandro. Sai chi ti saluta tantissimo? Sto cazzo. Proprio lui. Proprio lui. Proprio lui, Tiziana. Proprio lui. Ciao, sono Ale Cattelan. Ti stiamo chiamando da Rai 2. Sai che l'hai proprio detto con il tono di quella che dice A me la vuoi fare. Hai proprio detto Eh, vabbè, sto cazzo, chiaro. Aspetta, c'è qui la tua amica. Te la passo, sì? Ciao, Tizzi. Non lo diamo. Lo so, alla fine tu sto cazzi. Che hai fatto? Eh, Tizzi, abbiamo anche qui. Oh, so fortunata che i domani sono in smart. Sono veramente fortunata. Tiziana, scusami, noi siamo qua con Federica. Sì? La definiresti una tua amica? No. Ah, beh, beh, perfetto. No, no, beh, bastava essere chiari. Comunque Federica ti voleva dedicare Mi fai volare di Fabio Rovazzi. È tutta tua. Grazie. Ciao, Tiziana. Ciao. Oh, così. Boom. Sì, mi piace sempre molto buttare giù con violenza la cornesta. No, ma è corretto, è corretto. Allora, allora, Luca da Bologna, Luca da Bologna. Luca chi? Luca da Bologna. Ah, no, io era Luca. Ah, Luca, ah, no. Questa è una... Ti saluta sempre Kitty, eh? Allora, allora, allora. Allora, possiamo scegliere in base... Allora, perché Luca vuole dedicare Meno male che c'è il mare. Giusto? Sì. Di Olly. Olly. La sapete? Ma secondo me non la sa neanche Olly questa. Qual è Meno male che c'è il mare? Qual è Meno male che c'è il mare? Non chiedermi di cantarla a me. Presidente? Allora, chiamiamo Luca da Bologna. Anzi, scusami, Salvatore, amico di Luca da Bologna. Come mai non è venuto? Non è stato invitato come quello di prima. Eh? No, sta lavorando. Ah, sta lavorando, sta lavorando. Che lavoro fa? Parrucchiere. Ah, Salvatore Parrucchiere. Sì, credo di sì. Sai chi ti saluta tanto? Salvatore Parrucchiere. Però facendo uno shampoo. A quest'ora. Ha della gente che non lo vuole, tra l'altro. La canovica. Contro la sua volontà. Ancora tre squilli per Salvatore e poi gli mettiamo giù. Vai, tre. Due. Stai facendo i numeri, Mike, in alto con la mano, si vedeva solo il braccio, sembrava un saluto nazista. Ah, no, no, ci discutiamo. Perché non si vedeva che conteggiavi, sembrava solo... Niente, 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 via, due, niente. Ci dispiace. Ci dispiace ma non conoscevamo la canzone, quindi ci sta. Meno male, via. Yasmin. Chi è Yasmin? Eccola. Eccola là Yasmin da Monza. Che vuole sentire shakerando, vuole dedicare shakerando. Eccomi. Shakerando la sapete, raga, sì. Sì, però mi chiamo Yasmin. Piolli? Yasmin. Puntualiziamo. Basta, ne facciamo un altro. No, Yasmin, Yasmin. Che differenza c'è? Eh, la produzione è diversa. È come Cattelan e Cattelan, no? Eh, lo so, anch'io mi chiamo Cattelan, ma non è che rompo i coglioni alla gente se mi chiamano Cattelan. Ormai l'ho accettato e basta. Honesto. Ho accettato questa cosa e fine. Allora, la tua amica si chiama? Sofia. O Sofia. Sofia. No, Sofia. Questa era buona, eh? Voilà. Quanti gli andiamo ancora a tre? Pronto. Sofia? Sì? Sì, ciao, sono Alessandro. Sai chi ti saluta tantissimo? Sto cazzo. Guarda, posso dire, meno male che è l'ultima settimana perché ormai siete diventati troppo bravi. Sono tutti pronti. Ti passo un joie susmuin. Ciao, Sofi, tutto bene? Buon so, per un attimo. Ciao, Yasmin. Ciao. Hai detto Yasmin. Eh sì, perché è il mio soprano nome. Allora, stai bene? È a Venezia lei adesso. È a Venezia? Sì. Interessante. Sì. E si chiama anche Sofia Coppola. È a Venezia, però non è quella vera. Veramente? Sono io, studio cinema. Incredibile, lo so. E stai studiando cinema? Beh, è una roba incredibile. Allora, la tua amica Yasmin Yas, detta Yas, ti voleva dedicare shakerando. Bella, grazie. Salute a tutti anche. È tutta per te. Grazie, Yasmin. Grazie. Ciao. 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 Un caso remoto e un tasto integrale. Oh, mamma, mamma, ho sentito che ti stavi preoccupando. Tranquilla, mamma, lo sto lei conto shakerando, shakerando, oh, shakerando. Ah, 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 shakerando, shakerando. Fermatelo. Era questa, era questa, no? Non gli è piaciuta? Non gli è piaciuta. Veramente, una cosa. Scusa. Tutte queste cose qua, queste sono cose di prima, queste sono cose di prima, va bene, basta. Allora.